Ciao bambini, oggi volevo fare con voi un infilare che si può costruire con del materiale che abbiamo nelle nostre case. Ci servirà un contenitore delle uova, questo è di cartone, se non ci sa di cartone si può prendere una scatolina di una crema o la scatola delle scarpe, scotch, forbici e l'anima di cartone dello scottex o della cartagenica. Allora intanto si prende il contenitore delle uova e si fanno dei buchini, ogni buchino va colorato di un colore diverso, poi si prende l'anima dello scottex o della cartagenica e si taglia una striscina che poi andrà colorata con i colori corrispondenti al contenitore delle uova. Se si vuole rendere più forte, visto che comunque è cartone e si può piegare facilmente, gli si può dare poi, dopo che si è colorato, un giro di scotch per renderlo un pochino più forte. E abbiamo così i nostri bastoncini colorati e si potranno poi infilare nei colori corrispondenti. Io vi mando un bacione grande e a presto!